La Toscana chiede più vaccini, è l'unica arma che abbiamo per sconfiggere il virus. La seduta del Consiglio regionale, tutta dedicata alla campagna di vaccinazione, per ora sono state vaccinate poco più di 250.000 persone nella nostra regione, ha mostrato che tuttavia il giudizio sulla situazione attuale è molto diverso tra maggioranza e opposizioni. La sfida è comunque condivisa, emerge anche in tv durante la nostra lunga diretta del 25 febbraio che coincide con l'istituzione di due zone rosse a Pistoia e Siena. Accade ad un anno esatto da quando i primi casi di contagio furono comunicati su Telegram Ducato, proprio dall'allora Assessore alla Sanità e dal Presidente dell'Assemblea, che era Eugenio Gianni. Il Consiglio intero, dopo il dibattito in Commissione, torna anche sulla questione degli stori economici per le categorie più colpite. Si chiede insomma al Governo di intervenire con ogni mezzo ricorrendo a tutti i fondi disponibili, a cominciare da quelli europei. Nell'ultima parte dei lavori l'Assemblea approva anche la nota di aggiornamento al DEF regionale, il documento di economia e finanza, valore 1,6 miliardi di euro. Ci sarà anche altro oggi in regionando, parleremo dell'azione del Consiglio per valorizzare il patrimonio culturale dei nostri comuni e in particolare la ricchezza delle città murate e parleremo anche d'Europa. Vaccini, serve una svolta, ne sono convinti tutti, il Presidente della Giunta lo ripete, ormai da tempo. Oggi l'argine per in qualche modo interrompere quello che è la catena di contagi che negli ultimi giorni aumenta anche in Toscana è proprio alzare il muro dei vaccini. La Toscana è risultato anche dagli interventi, direttamente o indirettamente, ha una capacità organizzativa sul piano della vaccinazione che è tra le migliori in Italia. E consentitemi, oggi noi abbiamo una Ferrari che però viaggia come una 500 perché abbiamo una capacità vaccinale da parte dei nostri operatori, negli hub che abbiamo messo, nelle convenzioni costruite con i medici di base, nel rapporto instaurato con il volontariato, che potrebbe offrire 25.000-30.000 somministrazioni di vaccino il giorno. In realtà poi arriviamo a meno della metà perché manca la materia prima, i vaccini. Nel frattempo è scattata la zona rossa per due intere province toscane, quelle di Pistoia e di Siena, un provvedimento drastico deciso giovedì sera per prevenire un'ulteriore crescita dei contagi in quelle aree. Nello stesso momento l'importante è fare presto con i vaccini, naturalmente. Le difficoltà di approvvigionamento sono di tutta Italia, di tutta Europa, ma gli sforzi della Toscana sono apprezzati dalla maggioranza. Il primo è quello dell'organizzazione della campagna vaccinale. La Toscana ha organizzato due canali importanti, uno con gli hub e tutti i spoke organizzati con il sistema sanitario regionale, che sono serviti per vaccinare il personale sanitario, che ora stanno vaccinando le categorie che si sta vaccinando con AstraZeneca. Abbiamo attivato per prima regione la rete dei medici di medicina generale, che ricordo fra ottobre e novembre ha vaccinato 1.400.000 persone con il vaccino per anti-influenzale. Quindi abbiamo attivato una rete importante che può sostenere una quantità di vaccini importanti che noi speriamo nelle prossime settimane arriveranno. Sul lato delle priorità abbiamo dato priorità alla resilienza del sistema sanitario e che si sta concludendo. Abbiamo vaccinato tutti i sanitari, è importante che in un'epidemia quel sistema regga. Sostenni, che è il presidente della Commissione Sanità, va oltre e dice di condividere il piano che ora prevede attenzione ad altre fasce della popolazione, sempre secondo la logica di non sprecare né ritardare alcuna dose. Ora però cosa bisogna fare, secondo il presidente del gruppo d'Italia Viva, la forza che è la seconda gamba della maggioranza? In questo momento deve completarsi, nei prossime ore, nei prossimi giorni, tutta la vaccinazione del personale sanitario, parasanitario, del sistema ovviamente del RSA, dell'assistenza, partire in maniera accelere e veloce il percorso per gli oltreottantenni, terminare l'iter del personale scolastico e delle forze dell'ordine e inserire subito le persone fragili, quelle che hanno cronicità, disabilità e malattie oncologiche. Queste le priorità a seguire ovviamente tutti quelli che vivono di servizi essenziali e poi ovviamente entro la primavera deve iniziare la vaccinazione di massa perché dobbiamo aumentare il numero delle persone che vengono vaccinate per chiamarci a un certo punto fuori da questa pandemia. Di tutt'altro avviso sono i consigliari di opposizione, di tutte le opposizioni comincia con una citazione letteraria il vicepresidente della stessa Commissione Sanità. Poca gioia nell'urna chi non lascia eredità di affetti. Cioè abbiamo letto e sentito dall'assessore 180 pagine di cui la metà sono i bugiardini dei vaccini, altra buona parte è come si fa a mettere nella siringa la fiala realizzando il vaccino che deve essere ricostituito. Quindi sinceramente ci aspettavamo qualche cosa di più, sinceramente anche qualche cosa parecchio di più. è stato contestato il fatto che sostanzialmente per noi è come se lui chiedesse che dal cielo gli arrivasse la manna e è stato anche contestato il fatto che qualche altro presidente di regione in qualche modo se le va a cercare le cose. Ognuno di noi è artefice della propria vita. Ed è ancora più duro il consigliere Petrucci di Fratelli d'Italia, anche lui fa parte della stessa commissione, arriva a chiedere che il governo ottenga i brevetti dalle case farmaceutiche e faccia produrre qui i vaccini. 250.000 toscani sono stati vaccinati ad oggi, non sono nemmeno il 10%. Noi siamo fortemente preoccupati, a questo bisogna porre rimedio. Non è colpa della regione toscana, non è colpa dell'assessore Bezzini, ma il suo atteggiamento tiepido, remissivo rispetto a questa cosa. Ci preoccupa, vogliamo più polso, vogliamo che l'Italia e la Toscana battano i pugni sul tavolino e vogliamo più dosi per mettere in sicurezza il maggior numero di persone possibili. Seconda cosa, a chi lo diamo? Noi non riteniamo che si debba aprire una gara tra lobby. Io sono un avvocato. La lobby degli avvocati, lo dico chiaramente, è riuscita a ottenere la vaccinazione per la propria categoria. Io non toglierò, nonostante che sia a favore dei vaccini, io non toglierò una dose di vaccino a un ammalato. Quindi non utilizzerò questa scorciatoia a disposizione degli avvocati. Pensiamo che ci debba essere una strategia ben precisa. Al netto della fascia A, ovvero 80 e categorie a rischio, si deve andare non per categorie professionali o per categorie sociali, ma seguendo dati oggettivi. Stessa istanza, portata avanti da Marco Stella di Forza Italia, per lui la Toscana deve essere molto più energica adesso con il governo di Roma. Non possiamo più aspettare, lo abbiamo detto in maniera molto chiara al presidente Gianni, oggi si fanno 8.000 vaccini al giorno. Guardate, per raggiungere la vaccinazione necessaria ne occorre fare 45.000. Pensate di quanto siamo indietro. Ecco, la Toscana e i toscani non possono più aspettare. Per questo oggi abbiamo detto, se volete una mano, noi ci siamo. Se volete anche l'interlocuzione dei ministri di Forza Italia, noi siamo a disposizione, ma non ci stiamo più a questo balletto in cui si racconta ai toscani che va tutto bene. Restano in evase alcune domande anche per la consigliera Noferi del Movimento 5 Stelle. Quando verranno mandati gli altri operatori sanitari previsti dal bando del commissario Arcuri? Quanti sono stati i volontari che si sono offerti per fare le vaccinazioni dai bandi che erano previsti per i primi di febbraio? Insomma, tante cose rimangono senza risposta, come ho fatto presente in Consiglio regionale. Per cui, a nostro parere, la relazione manca degli aspetti fondamentali per quanto riguarda le liste di riserva, che non si capisce come funzioneranno perché non è indicato da nessuna parte nella relazione. Queste sono alcune, solo alcune delle criticità. Le emozioni presentate dall'opposizione vengono respinte quasi tutte. In realtà, però, la maggioranza dice sia quella di Forza Italia per dare priorità nella vaccinazione anche ai diversamente abili. Ecco, alla fine, il commento del Presidente dell'Assemblea. Penso che sia giusto spiegare ai cittadini che il nostro compito non è quello di produrre i vaccini. Il nostro compito è di somministrare nella maniera più rapida e più efficace possibile tutti i vaccini che ci vengono consegnati. Noi, oggi, con questa comunicazione e con la risoluzione collegata, chiediamo al Governo di darci più vaccini, di parlare con l'Europa con ancora più forza. Più vaccini avremo, più riusciremo a combattere questo terribile virus e noi vogliamo far rialzare presto la testa alla nostra Toscana e per questo con forza facciamo questa richiesta sia al Governo sia all'Europa. Oggi ci arriveranno nel mese di marzo tantissime altre dosi, 250 mila di Pfizer, 100 mila di AstraZeneca, 50 mila di Moderna, ma sono ancora, come capite bene, 400 mila dosi molto, molto meno delle esigenze che hanno i cittadini della Toscana. In attesa di affrontare il tema cruciale del futuro del Monte dei Paschi, la Banca Toscana per eccellenza, la seduta è stata rinviata di una settimana, il Consiglio ora esamina e vota a maggioranza la nota di aggiornamento al documento regionale di Economia e Finanza. Le risorse impegnate sono 1 miliardo e 600 milioni, un'integrazione necessaria dopo il voto di dicembre. Quasi la metà di questi fondi, 786 milioni, sono per le infrastrutture, la mobilità, la sostenibilità. 124 milioni sono per scuola e formazione, 113 per produttività e valorizzazione delle imprese e poi 64 milioni per il diritto al lavoro, 67 per l'economia circolare e il contrasto agli effetti del cambiamento climatico. Il documento di Economia e Finanza regionale è stato aggiornato nell'ultima seduta del mese di dicembre scorso in occasione dell'approvazione della manovra finanziaria e adesso il percorso di programmazione per il 2021 si completa con questa integrazione votata dal Consiglio che altro non fa che aggiornare i 24 progetti nei quali si articola il documento di Economia e Finanza della Regione Toscana sulla scia del piano regionale di sviluppo. C'erano diverse proposte di modifiche, testi di risoluzioni, emendamenti delle opposizioni, sono stati tutti respinti. Già questi gruppi durante il dibattito in Commissione avevano contestato di non essere stati coinvolti prima a sufficienza e ora rincarano la dose. Possiamo dire che questo documento economico e finanziario è oggi fuori tema perché si ricollega ad una cornice che è quello del piano regionale di sviluppo che deve essere rifatto ed oggi questa programmazione economica e finanziaria è un copia e incolla di atti, di progetti che sono 24 e che fanno parte di un vecchio percorso. Oggi il mondo è cambiato, la pandemia ci ha cambiato, ha cambiato le nostre abitudini, ha cambiato la nostra vita sociale, ha cambiato la nostra situazione economica, delle imprese, delle aziende, delle famiglie e c'è bisogno che si riparta da un piano regionale di sviluppo e che a quello ci si ricolleghi una progettualità con delle priorità per quanto riguarda dei progetti veri che si fanno, non i copia e incolla che si ritrovano in questi documenti che tutte le volte vengono riproposti e che mai portano a un termine. Abbiamo bisogno della concretezza della politica. La regione toscana va a investire soldi importanti e i verbi che leggiamo sono tutti mantenere, proseguire, continuare. No, serviva un cambio di passo che non è arrivato. Non esiste un capitolo dedicato al recupero della socialità nei quartieri periferici. Il problema di colmare il divario tra periferia e centro non è più soltanto un divario economico. Oggi è un divario culturale, è un divario sociale perché chi ha vissuto l'isolamento e la pandemia in un quartiere disagiato ha pagato due volte il peso della pandemia e del periodo disastroso che abbiamo vissuto. Non una parola in questa direzione. Quindi è un documento che tocca mille argomenti ma non porta il cambio di passo necessario a affrontare il periodo che stiamo vivendo in neppure uno. Quindi il voto di Fratelli d'Italia è un voto contrario. Sulla stessa linea anche il capogruppo di Forza Italia. 187 pagine che praticamente ricalcano le 187 pagine del 2010, le 177 pagine del 2019, del 2018 e così via. C'è sempre la stessa storia. Chiedevamo alla Regione di fare un salto di qualità nella gestione delle risorse, dove mettere, nelle infrastrutture, come pensare e come ricostruire la filiera del turismo in Toscana, quali sono le leve di promozione. Per esempio, noi facciamo tanto affidamento su Promozione Toscana, sulla Fondazione Sistema Toscana, per portare nuovi turisti in Regione Toscana. La Toscana fa 45 milioni di turisti, la Regione Veneto ne fa 67. È mai possibile che la Regione che in Italia detiene l'80% del patrimonio culturale faccia meno turisti delle altre Regioni. Bocciate, infine, anche le integrazioni proposte dal Movimento 5 Stelle. L'intervento nell'economia dovrà accompagnarsi anche alla necessità di dare ristori per chi è stato più colpito dalle chiusure obbligate, dalla pandemia. Argomento ricorrente, su cui anche stavolta c'è l'unanimità dei consiglieri. Lo approfondiamo tra sette giorni, con i nuovi dati a disposizione. Non c'è un voto unanime, ma un'ampia maggioranza sia, la legge che introduce contributi per decongestionare i centri storici e per realizzare, dunque, nuovi parcheggi. Le risorse ammontano a circa 4 milioni. Anche questo tema lo riprenderemo in seguito. Vediamo, invece, altri provvedimenti che hanno a che fare con la nostra storia, la cultura, la tradizione. E per questo sono stati votati da tutti. riguardano il patrimonio culturale degli enti locali, spesso meno valorizzato, talvolta in condizioni di degrado. E si torna anche a valorizzare le città murate. Sono una ricchezza della nostra regione, grazie all'impegno del Consiglio regionale, le abbiamo riscoperte e fatte conoscere ancora di più nei tempi recenti. È una qualità, diciamo, delle nostre città. Noi siamo abituati a pensare alle città cinte da mura, ma non è una cosa normale in tutto il mondo. È davvero una qualità che dà identità al nostro patrimonio culturale. E credo che si prosegua in una tradizione, perché è una legge di Consiglio regionale, che diventa, invece, una legge di giunta incardinata nel bilancio triennale dell'ente. Quindi si finanzieranno gli interventi dei comuni, che sono volti a consolidare, valorizzare, consentire la fruizione di elementi di scinte murari o di fortificazione delle città. È un intervento importante, è un sistema di interventi in ambito di valorizzazione e cura del patrimonio culturale, dei beni culturali degli enti locali, che ha visto anche altre leggi approvate proprio nella seduta di oggi, che vuol aiutare gli enti locali a prendersi cura del loro patrimonio. Non ci sono barriere di alcun tipo, stavolta tra maggioranza e opposizioni. Una legge che viaggia con oltre 2 milioni di euro di finanziamento potranno essere richiesti da quei comuni che hanno una conformazione architettonica tale da preservare e conservare le loro mura. Le mura nelle città toscane sono un vanto, un premio, una bellezza di carattere storico e architettonico da tutelare. In questo caso la legge della regione toscana dà una priorità a quei comuni che chiederanno di fare interventi, qualora hanno un'azione, una misura diretta, qualora le sovrintendenze non sono competenti rispetto anche alla proprietà delle mura stesse. Ci sono già città in Toscana che hanno potuto beneficiare di questi contributi. È particolarmente importante l'approvazione all'unanimità perché è un segnale proprio di interesse per la questione. Certo, occorre mappare il nostro patrimonio, occorre considerare effettivamente quale sia lo sforzo che occorrebbe fare per riportare il più possibile in condizioni adeguate questo straordinario e bene che appunto sono le nostre mura di città. Però è anche un bel segnale continuare in questa direzione. Lo abbiamo fatto negli scorsi anni, continuiamo anche adesso. E anche nel Movimento 5 Stelle si valuta positivamente il provvedimento. Sì, è stata una proposta di legge elaborata dalla Quinta Commissione che si occupa di cultura e istruzione. è un'ottima proposta insieme a quella che si concentrava sul pregio, sull'edificio di pregio. Quindi niente, l'abbiamo votata all'unanimità, in consiglio, perché vogliamo tutti in questo momento le stesse cose, in questo momento di crisi cerchiamo di avere un senso di responsabilità diciamo generale. La tutela delle nostre città storiche è un patrimonio importantissimo per la regione toscana e in questa fattispecie la tutela delle mura storiche è un elemento che ci distingue sopra ogni altra caratteristica. La Toscana, su proposta della Commissione Politiche Europee e Relazioni Internazionali, celebrerà con molte iniziative la Festa dell'Europa il 9 maggio. La proposta di legge è approvata dal Consiglio con voto favorevole all'unanimità anche se il gruppo di Fratelli d'Italia non ha partecipato al momento del voto. Altra novità proposta dall'Ufficio di Presidenza viene istituito il premio Leali del Pegaso. Sarà destinato ai giovani toscani o residenti in Toscana o che hanno studiato o hanno attività in Toscana sotto i 35 anni che si sono distinti nella scienza, nella cultura, nelle arti, nel lavoro, nella politica, nello sport, nelle relazioni internazionali. Noi con Regionando ci ritroviamo venerdì prossimo sarà il 5 marzo sempre dopo il Tg della Sera. Grazie. 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 Grazie.